un altro esempio vedete ok avete presente il segno questo disegno fatto così sulla labagna nera un disegno fatto così questo segno qua rappresenta la a ora voi così vedete la a vi è stato insegnato che è una a e quindi voi vedete la a vedete la a per ora adesso andate indietro quando eravate dei bambini al tempo quando eravate dei bambini tornate indietro al tempo in cui eravate dei bambini quando eravate dei bambini prima che vi fosse stato insegnato che questa è una a tornate indietro a quando eravate dei bambini prima prima che voi prima di aver imparato che la a prima di tutto quello che vedete è sul segno alla labagna vedete questo segno che non vedete non vedete che quella è una a magari vedete la a la a però non vedete che questa è la a non dite che questa è la a vedete il segno non vi è ancora stato insegnato perché non vi è ancora stato insegnato per cui vedete soltanto questo disegno questo segno e basta quindi poi dopo i genitori o un insegnante vi introduce vi dice vi dice questa è una a l'etichetta questa è una a questa è una a è l'etichetta il nome su questo segno e che e quindi voi credete che questa è una a nella vostra mente prima vedete soltanto la base non vedete che questa è una a capite molto chiaro non vedete che questa è una a è soltanto la base questa è la base è la base per la a